Quanto è importante informare sulla psoriasi? L'informazione nell'ambito della psoriasi è estremamente importante perché la psoriasi non è una malattia confinata solo sulla pelle, è una malattia oggi considerata sistemica e quindi c'è ancora tanta disinformazione sia per quanto riguarda la popolazione generale ma un po' anche nell'ambito medico, proprio per questi aspetti perché è vero che la psoriasi è una malattia che insorge sull'acute ma il processo infiammatorio che si ha nel corso di questa malattia interessa nei casi gravi molti organi interni quindi per esempio ci possono essere nel lungo tempo complicanze cardiovascolari, c'è obesità, a volte ci sono anche tratti di ansia e depressione quindi diventa una patologia molto complessa tant'è vero che si parla di marcia psoriasica proprio per la possibile evoluzione nel corso del tempo. quindi informare su tutti questi aspetti è estremamente importante per poter fare un percorso diagnostico-terapeutico appropriato per ciascun paziente. Quanto è diffusa la psoriasi nella nostra regione? La psoriasi è una malattia diffusa, è una malattia comune perché le stime in Italia sono di una prevalenza del 3% quindi parliamo di tante persone affette e mi viene da pensare che nella regione Lazio il dato non si discosti assolutamente da quello italiano quindi ancora una volta è importante informare proprio per la diffusione della malattia. Quali sono i campanelli d'allarme della progressione di questa malattia? I campanelli di allarme della progressione possono essere diversi in alcuni casi quando la patologia si estende sulla cute può essere l'insorgenza di nuove lesioni oppure un particolare arrossamento delle lesioni già esistenti ma ci può essere una progressione con un coinvolgimento articolare e quindi inizia il dolore articolare in particolare alle mani, ai piedi ma può essere anche diffuso alla colonna e lì bisogna valutare l'artropatia psoriasica. Che cos'è l'artrite psoriasica? L'artrite psoriasica è una delle patologie reumatiche infiammatorie croniche le più frequenti la prevalenza dell'artrite psoriasica è stimata fino all'1% della popolazione mondiale e l'Italia non è da meno in questa rappresentatività. È una patologia cronica che colpisce le articolazioni ma anche le strutture peri articolari come le inserzioni dei tendini e si caratterizza da dolore, infiammazione e diciamo anche impotenza funzionale e a lungo termine può provocare un handicap. Perché è importante diagnosticarla tempestivamente? Perché come tutte le patologie infiammatorie croniche può portare a distruzione articolare la distruzione articolare è stata vista correlare moltissimo con la perdita di funzionalità e la perdita di funzionalità si associa a una perdita di qualità di vita e quindi ha una difficoltà a effettuare le azioni della vita quotidiana. Una gestione multidisciplinare può fare la differenza per la sua cura? Assolutamente. Sapendo che uno dei fattori di rischio dell'artrite psoriasica è il fatto di avere una psoriasi fino al 30% dei pazienti con psoriasi con altri fattori di rischio possono sviluppare un'artrite psoriasica la presa in carico congiunta delle due discipline può permettere prima una diagnosi precoce quindi permetterà di identificare tra i pazienti con psoriasi quelli che possono sviluppare un'artrite psoriasica e nei pazienti che hanno una psoriasi e un'artrite psoriasica una migliore gestione perché paradossalmente le lesioni psoriasiche che predispongono l'artrite psoriasica non sono quelle più importanti ma sono quelle minime che colpiscono alcune sedi che paradossalmente non sono poi così visibili.